Nella mattinata di ieri gli uomini della squadra investigativa del commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia hanno arrestato un 63enne di Rocca d'Aspide per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Gli agenti hanno effettuato una perquisizione nell'abitazione dell'uomo, rimbenendo alle spalle del fabbricato cinque vasi di grosse dimensioni nei quali vi erano altrettante piante di marijuana di varia lunghezza. A ciò si aggiunge la presenza, in un terreno vicino, di altre dieci piante di marijuana di circa tre metri. Inoltre, all'interno dello stabile, il personale della Polizia di Stato ha rivenuto una busta in cellophane contenente marijuana già essiccata del peso di 125 grammi. L'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.